Ciao a tutti, bentornati! Qui si continua a spacchettare, stavolta andiamo a vedere che cosa ho preso dal sito di YesStyle, quindi parliamo di skin care coreana. Vi ho già detto anche nel video in cui vi parlo del siero di Younique, vi lascio sicuramente le schede da qualche parte, che YesStyle mi ha lasciato un codice sconto, vi lascerò anche giù nei commenti il codice e il link, comunque il codice è ROSAC20 e potete approfittare anche di uno sconto maggiore, c'è da dire che sug YesStyle i prezzi sono molto più bassi rispetto alla norma, rispetto all'Europa, molti fatti di questi prodotti li ho ricercati anche su altri siti e costano un bel po' di più, questo perché vengono direttamente dalla Corea o dalla Cina, credo, quindi i prezzi sono chiaramente più bassi. L'unico handicap sono le spedizioni, nel senso che sono gratuite ma sono lunghe, cioè i tempi sono abbastanza lunghi, anche due settimane, ma conviene aspettare anche perché i prezzi secondo me sono davvero molto vantaggiosi, tanto, ma andiamo a vedere un po' che cosa ho preso. Allora, rimanendo sempre su Younique, ho preso questo cofanetto qui molto famoso alla Propoli e ho preso il loro siero e la crema contorno occhi. Il siero da 15 ml pare sia favoloso, insomma, detta di molti, questo siero è adatto sia per le pelli problematiche, proprio perché la Propoli è un ingrediente, un forte ingrediente antibatterico, quindi anche per chi soffre di acne dovrebbe essere davvero un buon prodotto, ma anche per le pelli normali è consigliato, è un prodotto sia antibatterico ma anche antiossidante con tantissime proprietà, e anche la sua crema contorno occhi va a ridurre le rughette d'espressione, dovrebbe anche andare a illuminare il contorno occhi. Quindi, chiaramente tutto questo è quello che ho letto anche un po' qua e là, ma vi farò sapere in base alla mia esperienza. Poi, altra cosa presa è questa di Laneige, la maschera per le labbra. In realtà pensavo fosse il formato più grande. Io l'ho pagata pochissimo, circa 2 euro. Stiamo parlando di un formato da 3 grammi, motivo per cui costava così poco. In realtà, io ho detto, ma non può costare così poco, perché su Sephora le maschere labbra di Laneige costano sulle 15 euro, 10 euro. Ho detto, va, davvero poco. Ecco perché stiamo parlando di un formato molto piccolo, ma comunque era uno di quei prodotti che mi incuriosiva, quindi l'ho preso. Va bene così. Poi ho preso di questo brand, che è anche lui un brand che non conosco, credo si pronunci Corsix, è un gel detergente o comunque un detergente schiumogeno per tutti i tipi di pelle. Dice anche qui con estratti puri botanici, dovrebbe anche andare a... è anche delicato, quindi per pelli anche sensibili, tanto che dice che non va a donare una buona sensazione alla pelle, quindi ad alleviare anche la pelle. Quindi non va a tirare. Spesso molti detergenti, dopo averli applicati, tirano un po' la pelle. Non dovrebbe lui invece. Ed ha 150 ml, quindi un bel formato, un bel flacone grande, grande. Poi ho preso anche lui un prodotto che volevo provare da un sacco, cioè ultimamente proprio mi balenava l'idea di provarlo. Sto parlando di Purito, anche lui è un brand 100% coreano, mi piace un sacco il fatto che abbiano tutte queste scritte in coreano, non in cinese, ma in coreano, che è diverso. Cioè il coreano è più carino secondo me. Che dite? Vabbè, sto divagando. In ogni caso, all'interno, il 49% di centella asiatica, ci dice anche che protegge la pelle dalle agenti esterni e dovrebbe anche avere un effetto antiossidante. Sono tutti i prodotti che devo provare, studiarmeli un po', vedere anche bene tutti gli ingredienti che contengono, tutti i benefici. Quindi andremo a studiarcelo per bene. Questa volta invece ho scelto un prodotto di make-up. Sto parlando di un fondotinta cushion, 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 non lo so, di Misshan. In realtà questi fondotinta cushion in Italia se ne vedono poco. Comunque è un prodotto nato proprio in Corea. Molti brand infatti li hanno poi riproposti, anche brand che noi conosciamo. All'interno la sua spugnetta. Vediamo un po', andiamola ad aprire. Ok. Il colore è questo qui. Spero di non aver sbagliato. Quindi il prodotto si va a tamponare e poi applicare sul viso. Non so, non so cosa mi devo aspettare da questo prodotto perché spesse volte sono stata tentata all'acquisto di questa tipologia di fondo. Però poi l'ho sempre evitato. Ci sono diverse tipologie di questo brand di fondotinta cushion. C'è questa versione bianca e la versione invece col pack rosa. Io ho scelto questa semplicemente perché costava di più. E quindi ho pensato nella mia testa che fosse migliore. Ovviamente è un'idea completamente sbagliata perché non è il modo di ragionare. Però non conoscendo il prodotto, la tipologia di prodotto, volevo... Ho detto vabbè, vado così, è sensazione. Poi un altro prodotto che è stato il prodotto, il primo prodotto inserito nel carrello. Per le esperte di skin care. Insomma, sapranno benissimo di quello che sto parlando. Sto parlando della maschera viso di D.R. Klairs. D.R. Klairs è un brand favoloso in quanto... Ah, c'è anche l'applicatore. In quanto a skin care coreana. Io non ho mai provato nulla del brand. È il primissimo prodotto che provo. Ed è la maschera alla vitamina E. È una maschera alla vitamina E con niacinamide. Ed è anche una maschera illuminante. Questa sarà la prima cosa che proverò io oggi. Sicuramente la farò la maschera. E dicono sia miracolosa. È adatta quindi avendo all'interno anche il niacinamide. Va anche a ridurre le imperfezioni e anche a ridurre i pori. Dovrebbe andare anche a restringere i pori. Sono stra curiosa di provare questa maschera. È il primo prodotto che volevo provare. Poi volevo provare anche un sacco di prodotti di D.R. Klairs. Anzi, se qualcuno di voi ha provato qualcosa, vi prego di consigliarmelo. Magari scrivetemelo giù nei commenti. Quindi, ultima cosa acquistata è questo bel pacco che contiene 5 maschere in tessuto. Perché trovate anche Dr. Jart su YesStyle. Questa è sempre una cosa che non sapevo. Io in realtà non credevo che questo sito, che YesStyle, avesse tutti questi brand. In realtà sono andata così all'inizio perché ero un po' persa, perché ha migliaia di cose. Ma sia di skin care, anche abbigliamento, che in realtà non ho neanche guardato. Mi sono subito addentrata nella sezione skin care coreana, per dirvi. E ha appunto anche Dr. Jart, ha anche Tony Moly, ha I Am From. Ad esempio di I Am From vorrei provare la maschera al miele. In ogni caso, io che adoro le maschere di Dr. Jart in tessuto, questo bel pacco che ne contiene 5, ad un prezzo anche abbastanza basso, perché su Sephora una sola maschera costa sulle 5 euro, se non ricordo male. Io penso di aver pagato 5 euro l'intero pacco. Non voglio dirvi cavolate, magari andate a darci un'occhiata. Tra l'altro, non ricordo se fino al 28 dicembre ci sono anche degli sconti in più. In ogni caso ho preso questa qui, che è una maschera in tessuto idratante. Semplice, non fanno mai male, sono sempre ben accette. Questo è quanto. Io sono curiosissima di provare tutti questi brand. In realtà ho preso un pezzo per ogni brand, perché erano tutti quanti brand che volevo provare, tra cui The Arc Lairs, Corsix, Purito. Insomma, sono andata un po' ad intuito, perché volevo provarli. Sono andata anche a scegliere quei prodotti must del brand, tipo questo qui è un must del brand, ho anche di Unique, il siero è uno dei must have del brand. Quindi insomma, sono andata un po' così. Sono contenta, quindi non vedo l'ora di poterli provare, di potervi anche parlare un po' di tutto quello che sto testando. Non tenete d'occhio Instagram, perché ultimamente sono un po' più attiva, e lì magari qualche aggiornamento sicuramente ci sarà. Quindi, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, rosa caggiano, trattino basso, mi raccomando. E nulla, io chiaramente vi mando un bacio grande. Tenete d'occhio anche il codice sconto su YesStyle, vi ribadisco che ve lo lascio anche giù nei commenti. E nulla, io vi mando un bacio grande, e ci vediamo presto. Ciao!